Siamo al terzo giorno del Festival delle Città del Medioevo che si tiene all'Aquila dal 21 al 25 giugno, quindi fino a domenica e con tantissimi interventi di cattedratici e studiosi all'interno dell'auditorium del parco ma fuori c'è un mondo che è stato così ricreato e portato qui, un mondo medievale che vede i protagonisti, in questo caso i Templari e anche delle Sarte, la Sartoria Medioevale. Il quarto San Pietro, che è nato da poco tempo, anche grazie alla perdonanza celestiniana e si è specializzata, tra gli altri ambiti di ricerca, nella realizzazione di abiti storici seguendo le fonti iconografiche e i documenti originali anche dell'Aquila e di altrove. Quindi una esposizione di abiti storici medievali qui all'interno, proprio all'ingresso dell'auditorium e invece subito fuori un accampamento templare e abbiamo qui proprio un esponente dell'epoca. Sì, tecnicamente io sono un commendatario dell'ordine del Tempio, un dignitario e mi piace sottolineare il fatto che sicuramente in epoca medievale, nel tempo in cui sono esistiti i Templari all'Aquila qualcuno avrebbe potuto tranquillamente incontrare uno di noi che fosse un cavaliere nobile in bianco o un sergente borghese in nero ma i Templari erano dappertutto per il semplice fatto che avevano bisogno di procurarsi risorse per mantenere l'esercito, cioè i famosi cavalieri templari, quelli tanto belli che combattono i saraceni ma in realtà avreste più facilmente incontrato qui all'Aquila uno di noi vestito come sono vestito io e infatti abbiamo allestito un accampamento dove si parla di armi ma si parla di soldi, di diplomazia e anche di medicina perché la cura del corpo faceva anche parte dell'etica templare perché siamo monaci e cavalieri. Grazie. Ecco, oltre chiaramente a un dispiego così di energie per eventi e manifestazioni che si tengono qui all'aperto all'interno dell'auditorium, tante sono le lezioni di storia tenute da grandi professori venuti dall'Università dell'Aquila chiaramente ma anche da tutta Italia e grandi personaggi. Anche ieri c'è stato un importante incontro con Pupiavati ma le sorprese non finiscono, ce ne sono fino a domenica quindi dall'Aquila è tutto e dal Medioevo a voi.